Va bene la stretta? Sì, perché c'è chi probabilmente non comprende la gravità della situazione, per cui ritengo che dovrebbe esserci. Quindi qualche rinuncia a Natale va fatta? Sì. Visto come vanno le cose e come fino adesso, non credo che due giorni risolvano. Se va avanti così ci aspettiamo una terza fase dopo Natale? Ora di sì, temo di sì. Forse anche un po' tardi, visto come vanno le cose. Capisco le persone, noi siamo forse più prudenti per via dell'età, chiaramente, però andiamo incontro. Sì, sì, sicuramente. Lei è favorevole? Sì. E dice che andrebbero a diminuire solo così i contagi? Sicuramente, è l'unica maniera, non ne vedo altre. Purtroppo se ne stiamo attenti. E quindi sì alla stretta? Sì, bisogna a un certo punto fare lockdown. Grazie. Grazie.